oltre 12.net essere, e creare, nell'eterno presente. Eckhart Tolle, promemoria settimanale del momento presente. Per la maggior parte della gente, il proprio insegnante spirituale è la sofferenza. Perché alla fine la sofferenza provoca il risveglio. Eckhart Tolle. Aggiungo che, come lo stesso Eckhart dice spesso, la sofferenza non è necessaria al risveglio, ma è un indicatore della necessità di vedere oltre l'illusione. www.oltredodici.net videocreatoconvedise.com Crea un video per il tuo blog con un clic. Gratis.